e buongiorno a tutti. Sfortunatamente la Domenica delle Storie verrà rinviata per questa volta perché sono stato molto occupato con il canale di gaming. Esatto, alcuni di voi mi hanno chiesto di aprirne uno e alla fine l'ho fatto. Se volete aiutarmi anche lì vi lascio il link in descrizione e vi ringrazio moltissimo perché alcuni si erano già iscritti prima che dicessi qualcosa. Il gaming è una delle mie più grandi passioni e spero davvero che quel canale vada bene perché veramente ci tengo tantissimo. Quindi grazie mille a chi si era già iscritto prima. E passiamo al video. Oggi parleremo un po' di veicoli assurdi. Sappiamo benissimo che per far vedere chi ce l'ha più grosso molti esseri umani comprano veicoli di ogni genere e dimensioni. Che è il portafoglio più grosso, non pensate male. Con ogni genere comunque intendo davvero ogni genere di veicolo con customizzazioni uniche che hanno lasciato i segni su internet. Volete capire meglio? Beh, dopo essere passati anche dalla pagina Instagram per ridere guardandovi qualche meme, tornate qui e seduraiatevi che cominciamo il video. Bentley Corazzata Guardando questa Bentley trasformata in un carro armato sicuramente una cosa avrete pensato. Ah, scommetto che è stato un russo a farlo. Ed è così. E anche se non l'avete pensato ora lo sapete. Il canale Academy G è un canale YouTube russo che ha deciso sei mesi fa che le macchine di oggi non erano abbastanza cingolate. E quindi comprando una Bentley come se fossero pacchetti di fazzoletti ci hanno fatto un paio di lavoretti per renderla adatta, ecco, a qualunque strada? Direi di sì. E ora, se qualcuno proverà a suonarli verrà letteralmente schiacciato. Questa Bentley GT si alza dal suolo di ben 60 centimetri. Ovviamente una cosa del genere non è stata facile da realizzare. Hanno dovuto potenziare il motore e mettere un bel po' di sospensioni, che riuscissero a reggere appieno le 3 tonnellate di peso. Vi sembrerà assurdo ma riesce comunque a raggiungere i 100 chilometri orari con tutto quel peso. Sea Breacher Quanto è bello fare sci acquatico o guidare una bella barchetta a motore ultraveloce oppure stare in un sottomarino. Ok, l'ultima è una cosa un po' drastica, ma immaginate di potervi immergere nell'acqua e tornare su come fanno i delfini o le orche. Il tutto dentro a un piccolo veicolo metà sottomarino e metà barca. Eccovi il Sea Breacher. Un modo molto, molto costoso di divertirsi in mare, ha la forma di vari esseri marini e può raggiungere anche i 90 chilometri orari. Potete godervi il mare senza alcun limite grazie a questo giocattolino. E ora sapete anche che il mondo non è noioso, semplicemente siamo troppo poveri. Volkner Mobile Non è il nome di una delle macchine di Batman o di un supereroe qualunque. Dall'esterno può sembrare un normalissimo pulmino per scolari o anziani che vogliono farsi un giro in capo al mondo, ma non lo è. All'interno è un resort a 5 stelle completo di cucina, una stanza da letto spaziosa e un bagno. Ma non è finita! Se siete ancora troppo ricchi dopo aver comprato tutto questo gigante di lusso e decidete anche di comprare una macchinina più piccola, sappiate che c'è lo spazio per metterla dentro l'autobus. Sì, proprio dentro. Ai lati ha un piccolo garage con pedana scorrevole. Il prezzo di partenza è di un milione e mezzo di euro. Dall'esterno sembra veramente orribile e all'inizio molti non credevano nel progetto. Ma ora forse potrebbe diventare uno degli autobus di lusso più richiesti dai ricconi. Ice G Wagon Con il ghiaccio si possono creare alcune delle sculture più belle del mondo. Se vi dicessi che questa forma d'arte è stata in grado di tirare fuori perfino una macchina più unica che rara? Sicuramente mi crederete visto che abbiamo visto già moltissime cose e siamo solo all'inizio. Comunque questa è la Ice G Wagon, ovviamente creata da dei russi visto che il freddo peggiore per fortuna lo subiscono loro. Hanno creato dapprima lo scheletro e dopo sono passate alle tonnellate di ghiaccio. Quasi 5 per la precisione, tagliata e lavorata giorno e notte. Se volete vedere tutto potete andare sul canale Garage 54, è una loro idea. Non hanno usato nessuna colla o saldatura, hanno solo messo l'acqua nei punti da collegare, acqua che si congelava subito unendo tutto. Ma il bello arriva la notte quando accendono tutti i led. Che dite, non sembra l'albero di Natale a quattro ruote più bello del mondo? E va bene, dai un punto ai russi, ce l'hanno fatta di nuovo. Quadro Foil Quando pensate ai viaggi in acqua, cosa vi viene in mente? Il solito, no? Barche, yacht, eccetera. Ma adesso basta, non dovete più guardare a cose così obsolete e inutili come gli yacht. Ma sì, chi ha bisogno di uno yacht lussuoso quando c'è il quadro Foil? Beh, io sinceramente sì, ma ho dovuto dirlo per cominciare l'introduzione di questa incredibile moto d'acqua che possiede quattro ali, per così dire, che toccano l'acqua e che tengono su il veicolo. Praticamente sarà come andare in auto, ma in acqua. Per ora può raggiungere la velocità di soli 40 km orari, ma se non avete fretta di andare a lavoro sarà un bel risparmio per il futuro, visto che è tutta elettrica. Macchina di carta E dopo la casa di carta, eccovi la macchina di carta. Ok, il telefilm non si riferiva letteralmente a una casa di carta, ma vabbè. Qualcuno nel team dell'azienda della Lexus era ossessionato dalle carte, di sicuro. E per colpa sua forse sono morti tantissimi alberi. Perché questi ingegneri hanno usato 1700 forme di carta diverse per montare questa Lexus. Guidabile. Sì, si può guidare. Finalmente una Lexus che posso permettermi. Quasi ogni cosa è stata fatta con la carta. Sedili, volante, perfino le gomme non sono di gomma e i cerchioni. Insomma, l'unica cosa a cui stare attenti è l'acqua. E visto quanta ne scorre ultimamente in Italia, penso non si uscirà molto con questa macchina. Però sarebbe stupendo tenerla in garage da collezione. Che dite? Aeromobile Sapete come pensavano sarebbero stati i veicoli nel futuro, negli anni 80 o 90? Più o meno come questo abominio, ehm, volevo dire, Aeromobile. Dai, in fondo non si sbagliavano tanto. Dicevano avremmo avuto le macchine volanti incredibili. E nonostante negli anni io abbia visto solo delle multe volare, devo dire che questa macchina a metà aereo ci sa fare. Come ho appena detto, è una macchina in grado di volare. Il design assurdo che farebbe bruciare gli occhi a chiunque consente alle ali di entrare dentro il veicolo quando è a terra. Verrà messa in vendita forse dal 2020, ma i problemi sono tanti. Prima di tutto costerà quasi 2 milioni di euro. E come seconda cosa bisognerà avere una licenza di volo. Tanto vale comprarsi un jet privato a sto punto. Bolla Questa si chiama Sea Bubble ed è una barca completamente elettrica, con un design simile a quello delle macchine a terra. Simile ho detto, non uguale, eh. Capiamoci perché anche questo in quanto a design secondo me ha bisogno di qualche rifinitura. Insomma, non sono l'unico che non riesce a capire sti design futuristici, vero? Comunque sia, questa cosa è venduta al prezzo di 200 mila dollari. E vi darà più la sensazione di guidare una macchina che una barca. Infatti è stata progettata per questo motivo. Immaginate di arrivare in Sardegna guidando. Potreste andare finalmente in vacanza in questi bellissimi posti senza dover vendere per forza un rene per comprarvi due biglietti aerei. Per ora è disponibile in pochi posti, tipo Olanda e Svizzera, ma si spera giunga anche da noi. E pausa quiz prima di concludere. Nell'ultimo eravamo rimasti a questo animaletto e vi avevo chiesto come si chiama. E voi avete risposto in tantissimi verme piatto ed era la risposta giusta. Ma stavolta per il prossimo quiz dovrete aspettare il prossimo video, perché come detto prima ero molto occupato con il canale di gaming. Quindi andiamo avanti e finiamo questa classifica. Lego Bugatti Avrete sicuramente sentito parlare di questa Bugatti negli ultimi mesi, ne son certo. I Lego sono i giocattoli preferiti di tutti, sia bambini che adulti. Anzi, devo dire che stimola più le fantasie di un adulto che di un bambino, perché i design complessi che alcuni riescono a tirare fuori lasciano il mondo senza parole, come questa bellissima Bugatti Chiron che è stata interamente fatta con i Lego ed è funzionante. Perfino i freni, il motore, le sospensioni, tutto è stato creato con questi oggetti. Ci sono voluti 19 mesi e un milione di pezzi. E ovviamente gli ingegneri più ingegneranti del pianeta. Insomma, io nemmeno riesco a pensare da dove si debba iniziare per fare certe cose. Raggiunge la velocità di 30 km orari massimo, ma chi se ne frega è davvero stupenda che dite. Elysium Furion Abbiamo visto prima un autobus ultralussuoso con un letto, un bagno e un portamacchine, ma se vi dicessi che ce n'è uno in cui potete parcheggiare il vostro elicottero privato… Esatto, nemmeno io ho un elicottero. Ma nel caso un giorno vinceste alla lotteria e diventaste milionari, vi consiglio assolutamente di mettervi avanti e comprare l'Elysium Furion. Con un prezzo base di 2 milioni o più di euro potreste portarvi a casa un lussuoso hotel a 5 stelle con le ruote che oltre ai letti pregiati, la cucina e il bagno intelligente che scarica quando finite di fare un bisogno, ha anche questo fantastico parcheggio per elicotteri come detto prima. Sono già in fila per prenotare il mio, che mi arriverà tra il 2000 e mai più. Con questo concludiamo. Allora cosa ne pensate? Qual è il vostro preferito? Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo. Bentley colazzata. Colazzata, oh mio dio, colazzata.